Saranno messi nel novero. Fucilide, seconda metà del VI secolo a.C., poeta e regiaco, in sentenze, dice Noi crediamo fermamente che un giorno i resti mortali usciranno dalla tomba e ricompariranno alla luce del sole e saranno messi nel novero degli dèi. Nei cadaveri che imputridiscono le anime restano incorruttibili perché l'anima è immagine di Dio, il quale non fa che prestarla ai mortali. Commento Al di là dei cadaveri che risorgono, resta l'intuizione del poeta per cui le anime che hanno vivificato i cadaveri saranno messe per evoluzione raggiunta, si aggiunge, nel novero degli dèi. Grazie. Grazie.